Torna nel borgo di Montepagano una nuova edizione di Castellarte. Fino al 15 settembre sarà visitabile la mostra Iron and Old Stones che esporrà materiali di rifiuto trasformati in opere d'arte. Una bella mostra del maestro Paolo Spoltore e le sue sculture. Sono varie installazioni nelle vie e nelle piazzette del borgo. E' un scultore soprattutto in ferro, riutilizzato, quindi materiale di scarto però sono state fatte dal maestro delle belle opere d'arte. Questa mostra che è iniziata il 15 luglio, sarà ancora nel borgo fino a metà settembre. E' già molto visitata, mi invito tutti a vederla perché è molto interessante. Grande spazio anche alla musica lirica, con l'esibizione di artisti provenienti dal Sud Corea. E' l'occasione per presentare un Galà dell'Opera, il 31, e con la partecipazione di artisti provenienti dal Sud Corea. Quindi artisti coreani che ogni anno vengono nel nostro paese a studiare questo bell'arte che è la lirica, tipicamente italiana, fanno delle masterclass e poi il loro talento lo esprimono in alcuni concerti, in teatri e anche nei borghi caratteristici dell'Abruzzo.